La luna di miele prosegue alla cerimonia della campanella per la votazione in borsa del titolo Ferrari. Un bel segnale, la presenza del Premier, commenta Martionne, e la domanda sul suo futuro in politica si ripropone. Su questo, fra due mila anni, non succederà mai. A Palazzo Chigi eppure a Monza a vedere il Gran Premio arriva Paolo Gentiloni, lo sguardo è rivolto alla campagna elettorale del 2018. Nelle stesse ore Berlusconi lancia l'ipotesi di una candidatura di Martionne a Premier per le politiche. No grazie, risponde il manager, che alla presentazione del piano industriale di FCA apre al futuro dell'auto elettrica e pone le basi per un'intesa con il nuovo esecutivo giallo-blu. Noi siamo sempre stati fiori a lavorare l'azienda. Ma da aziendalista punge con una battuta il neoministro dello sviluppo economico, Di Maio guida una Renault, eppure è di Pomigliano, dove si fabbricano Fiat. Al posto suo andrei sempre in giro con una Panda.